Eccoci qua a Quornia al Pontevecchio, nel nostro piazzale Pontevecchio, per oggi soprannominata a Plaza Arena, per l'avvenimento motociclistico della Piston Cup, Vespe e ciclomotori. Abbiamo qua una bella rappresentanza di ragazzi con questo tipo di motorini, di Vespe, anzi ce n'è una che è un 200cc con 38 cavalli alla ruota, che partecipa al campionato italiano. Abbiamo fortemente voluto questa manifestazione perché anche il nostro motto è Quornia Rombante, Quornia è un paese amico dei motori. Dà sempre un salto effetto vedere i motori del piazzale Pontevecchio, sicuramente la memoria ha fatto andare indietro al motoshow, il grosso evento dei motori che ha riempito di appassionati nel 2011 Quornia, l'idea è quella di riproporlo di nuovo nel prossimo anno, questo assessorato lavorerà per questo, dare la possibilità a quest'area sempre dedicata ai motori, di poter proporre le varie categorie di motori, girare per tutti gli appassionati. Sicuramente oggi abbiamo potuto riportare questa attività grazie al delegato Vanni Ghisapuli. Un ringraziamento particolare agli organizzatori, gli auguro che questa competizione che raggiungerà altre località piemontesi e anche fuori del Piemonte possa concludersi nella maniera migliore e rendere onore a questi atleti.